How I Met Your Mother è finito, kaput, adios, hasta la vista, ma verrà ricordato per il glorioso finale che ha fatto in c***a i fan della serie in tutto il mondo. Nove anni ad aspettare, sta madre che poraccia si vede per non più di venti minuti e fa la fine che... Insomma, detta di molti, tutto a p***a, ma è davvero così? Noi abbiamo buttato giù due punti di vista opposti, il finale di How I Met Your Mother. Ha fatto schifo oppure no? Fatti un'idea e condividi con noi la tua opinione. Da che parte stai? Dai, diccelo che qui abbiamo voglia di sbraitare anche noi!